Ciao, sono Fredo Scarpetti, mi sto per laureare in scienze del patrimonio adesivo e nuova in media all'Università di Udine e ho deciso di svolgere il mio tirocinio curriculare a IDACREA. Il tirocinio l'ho trovato sul portale dedicato ai tirocini dell'Università e ho pensato fosse un'attività interessante soprattutto per il lavoro che svolge nell'arte. Durante questi due mesi di tirocinio ho svolto diverse attività, tra cui la gestione della pagina Instagram, progettazione grafica, montaggio video, comunicazione e tante altre cose. La cosa che mi ha colpito di questo ufficio è che è un ambiente molto tranquillo e sereno e lo staff è sempre stato disponibile di supporto, oltre che molto gentile e fra dieci anni mi piacerebbe lavorare nell'ambito organizzativo promozionale dell'industria mediale. Nel frattempo mi laureo. Ciao!